come i dati possono aiutarci nello studio dei beni culturali. Io sono Marco Ferrante, fondatore di Trace Technologies e oggi parleremo proprio di questo argomento. Eccoci qua all'interno della presentazione. Volevo ringraziare AYAR per avermi dato l'opportunità di potervi parlare di applicazioni scientifiche nel settore dei beni culturali, ospitandomi nel loro bellissimo canale YouTube. Ne approfitto inoltre per parlarvi un pochino di chi è AYAR. Dunque, AYAR è un'associazione italiana che è nata nel 1993 ed è la principale associazione a carattere scientifico senza fini di lucro, che riunisce studiosi, professionisti e ricercatori che sono attivi nel campo delle applicazioni scientifiche e dei beni culturali. La vision di AYAR è sicuramente quella di promuovere e sviluppare attività di ricerca, didattiche e professionali per lo studio e la salvaguardia del patrimonio culturale, utilizzando delle metodologie scientifiche. Essa promuove contatti e network tra ricercatori di discipline scientifiche e quelli di discipline umanistiche. Per questo motivo AYAR incoraggia proposte ed approcci operativi innovativi che portino al costante sviluppo di nuove tecniche, che possono essere non invasive o microinvasive, all'affinamento di tecniche per la datazione di studi di provenienza o addirittura allo sviluppo di sistemi di monitoraggio delle opere e degli ambienti di conservazione. Detto questo, entriamo nel vivo della nostra presentazione. Ed eccoci finalmente all'interno della nostra presentazione. Oggi, come vi avevo preannunciato, parleremo della scienza dei dati. Tratteremo diversi argomenti. Parleremo della data science, quindi della scienza dei dati. Approfondiremo un pochino l'analisi multivariata con un caso specifico per quanto riguarda la PCA, cioè l'analisi delle componenti principali. Allora dunque, quando si parla di scienza dei dati, quindi di data analysis, intelligenza artificiale, machine learning, spesse volte ci troviamo di fronte a facce simili a quella di Zalone. Cioè, che cosa mi stai dicendo? Che cosa mi vuoi trasmettere? Cosa vuoi dirmi? Non lo comprendo. È un qualcosa di veramente complesso. E io anche mi sono trovato spesse volte, soprattutto agli inizi, a fare quella faccia. E allora mi è venuto in mente di proporvi un video di pochi secondi, che forse può essere allo stesso tempo divertente, ma anche educativo. Innanzitutto, quando una cosa è jazz? Allora, per riconoscere il jazz, quando sentite una melodia bella, che si capisce, una cosa che fa piacere anche all'orecchio, e poi il pianista jazz incomincia a... e dentro di voi c'è una domanda che è ma... ma che cazzo? Quello è il jazz. Beh, come abbiamo potuto vedere, diciamo, Zalone ha rappresentato perfettamente quello che è il concetto di complessità. Cosa voglio dire? Che essenzialmente il jazz è un qualcosa... è una musica estremamente complessa, di difficile comprensione. Però lui, con la sua comicità, ha reso un argomento molto complesso e di difficile comprensione, come potrebbe essere il jazz, molto semplice. E la data science fa proprio questo, cioè la scienza dei dati non fa altro che fare questa cosa qui, che è stata fatta da Zalone, cioè rendere comprensibile quello che all'apparenza non lo è, perché è infinitamente complesso. Dunque, noi siamo stati sempre abituati a risolvere i problemi utilizzando il metodo scientifico. Cosa voglio dire? Galileo Galilei, sin dall'antichità, ha esordito con questo metodo dicendo, ok, abbiamo una teoria, la dobbiamo in qualche modo sperimentare, quindi effettuare degli esperimenti che ci diano dei risultati, quindi delle osservazioni, e in base a queste osservazioni noi possiamo confutare o meno la teoria. Che cosa fa invece la data science? Fa essenzialmente un po' il contrario del metodo scientifico, cioè parte dalle osservazioni, cioè parte dai numeri, per poter in qualche modo capire qual è la teoria o la complessità che c'è dietro questi numeri, e fare appunto delle considerazioni e trovare delle soluzioni a problemi altamente complessi. Ma cosa c'è dietro la data science, cioè dietro la scienza dei dati? Beh, ci sono una miriade di expertise, parliamo di specialisti in statistica, in informatica, in matematica, in scienze sperimentali, quindi dietro la parola data science o scienza dei dati c'è un mondo altamente tecnologico. Naturalmente voi vi chiederete, ma cosa c'entra tutto questo con l'archeometria? In realtà c'entra molto, perché l'archeometria non è altro che l'analisi dei dati applicata al settore archeologico, cioè nei beni culturali. Volete un altro esempio? La chemiometria, cioè l'analisi dei dati applicata al settore chimico. Tutte queste analisi sono molto importanti perché ci permettono di risolvere dei problemi specifici. Definita appunto che cos'è la scienza dei dati, facciamo un passo oltre e andiamo ad approfondire questa scienza dei dati e immergiamoci nell'analisi multivariata. Che cos'è l'analisi multivariata? Essa è costituita da due parole, multi e variata. Multi vuol dire tante, variata, variabili. Cioè abbiamo a che fare con tante variabili, simultaneamente, che vogliono in qualche modo trasmetterci un'informazione. Spesse volte, soprattutto nell'ambito archeometrico, ci capita di avere a che fare con dei manufatti. Pensiamo ad esempio a delle anfore. Le anfore possono avere una dimensione, quindi possono avere un'altezza, una larghezza, una grandezza della bocca e una profondità, una capienza. Quindi abbiamo tante variabili che definiscono un'anfore a tutti gli effetti. Cosa succede però? Spesse volte noi siamo abituati a rappresentare queste variabili su un diagramma cartesiano XY, quindi su una scissa e un'ordinata, come possiamo vedere nel grafico. Però questo ci pone delle limitazioni, perché riusciamo ad osservare al massimo due variabili contemporaneamente. Certo, potremmo avere un grafico tridimensionale, ma sapete benissimo che un grafico tridimensionale è di difficile anche visualizzazione. Quindi sorge un problema. Un'area variabile per volta o al massimo due non ci consentono di avere una visione d'insieme del problema. Cioè, voglio dire, le variabili sono più di due, più di tre. E quindi come possiamo fare per poter far dialogare tutte queste variabili, capire che relazioni ci sono fra le variabili e che possano in qualche modo parlarci? Bene, l'analisi multivariata in realtà segue dei canoni, degli step molto importanti. Il primo step è quello di raccogliere i nostri dati multivariati, quindi creare una sorta di dataset. Un dataset non è altro che un insieme di righe e di colonne, nelle quali sulle righe abbiamo i nostri campioni e sulle colonne abbiamo le varie variabili che abbiamo collezionato con le nostre misure. Bene, dopodiché, avendo a che fare con un dataset, possiamo elaborare questo dataset utilizzando anche l'aiuto di diversi software dedicati, quindi ambienti di programmazione dedicati, come ad esempio R con RStudio, oppure Python o SPSS, eccetera. Che risposta abbiamo successivamente a questa analisi di machine learning, chiama così, cioè di macchina che impara? Otteniamo delle informazioni da tutto l'insieme dei dati a nostra disposizione e non da soltanto due variabili o tre variabili. Andiamo ancora più nello specifico e parliamo della PCA. Che cos'è la PCA? È l'analisi delle componenti principali. È una tecnica multivariata, molto molto interessante e oserei dire anche molto potente, che ci permette di avere differenti tipi di informazioni, soprattutto nel nostro settore, nel settore archeometrico. La PCA infatti può prendere quattro o più variabili e rappresentarle in grafici bidimensionali che possiamo comprendere. Quindi le variabili che descrivono i dati sono trasformate in nuove variabili, chiamate appunto componenti principali, che sono delle combinazioni lineari delle variabili originali. E che cosa possiamo ottenere dalla PCA? Possiamo valutare la correlazione fra le variabili, visualizzare degli oggetti, sintetizzare la descrizione dei dati, ridurre la dimensionalità dei dati, ricercare proprietà principali, definire un modello di rappresentazione dei dati. Definita che cos'è la PCA, è interessante adesso capire come essa può essere applicata nel nostro mondo, cioè nel mondo dell'archeometria. E mi piaceva portare un case history. Qualche tempo fa c'è stato richiesto di rispondere ad una domanda archeologica, cioè ovvero, dei manufatti in rame provenienti dal Bahrain sono simili a dei manufatti di rame dell'Oman e soprattutto sono differenti ad altri manufatti in rame provenienti dalla Giordania e dallo Yemen? Abbiamo iniziato a capire quali erano i dati a nostra disposizione. Dunque, avevamo 97 manufatti di rame provenienti da quattro paesi e dei quali avevamo a disposizione 10 variabili per ciascuno. Queste variabili non erano altro che 10 concentrazioni di elementi presenti su questi manufatti. A questo punto abbiamo cercato di capire se la scienza dei dati poteva esserci veramente di aiuto e abbiamo applicato la PCA utilizzando il software RStudio. Va ricordato in primis che la PCA è una tecnica statistica cosiddetta non supervisionata. Che cosa vuol dire? Che consente la visualizzazione dei dati multivariati e consente di identificare dei gruppi all'interno di set di dati proposti. Cioè, non supervisionata vuol dire che non ci permette di classificare, cioè non è una tecnica classificante, ma soltanto ci permette di visualizzare un enorme numero di variabili all'interno di un grafico bivariato. Che cosa abbiamo effettuato successivamente? Abbiamo effettuato uno studio di correlazione, cioè abbiamo cercato di capire come le variabili si comportavano fra di loro, cioè come dialogavano le variabili all'interno del nostro dataset. E abbiamo fatto delle scoperte molto interessanti. Ad esempio, come possiamo vedere nel grafico, si può vedere che i puntini blu al di fuori della diagonale principale mostrano una correlazione positiva tra le variabili. Ad esempio, il nickel e l'arsenico sono positivamente correlati, mentre per quanto riguarda i puntini rossi identificano le correlazioni negative. Ad esempio, il rame e lo stagno sono correlati negativamente. In questa slide andiamo a visualizzare quelli che sono i grafici che abbiamo ottenuto utilizzando la tecnica della pca. Dunque, a sinistra possiamo vedere il grafico delle variabili, cioè quali sono le variabili più significative, cioè le variabili discriminanti, quelle che pesano di più all'interno del nostro dataset e che ci permettono di discriminare i vari oggetti fra di loro. Mentre sulla destra possiamo vedere una rappresentazione degli oggetti, cioè dei nostri appunto manufatti di rame, all'interno del nuovo piano cartesiano costituito dalle due componenti principali. Come possiamo vedere, si iniziano a differenziare fra di loro, cioè piano piano stiamo cercando di capire, e abbiamo capito, che ci sono alcuni elementi molto caratteristici fra di loro che permettono una discriminazione dei gruppi. In questa slide abbiamo in qualche modo definito, mediante l'utilizzo di ellissi, quelle che sono i quattro gruppi di appartenenza che definiscono le quattro nazioni e la pca ci ha permesso quindi di visualizzare e anche di definire questi gruppi in maniera molto più congruente. Vi ricordo sempre che la pca è una tecnica non supervisionata, cioè ci permette a priori o comunque successivamente di riuscire a capire quali sono i gruppi, o se ci sono dei gruppi all'interno di un nostro dataset. Successivamente potranno essere effettuate delle analisi statistiche molto più approfondite per in qualche modo definire quei gruppi come proprio delle vere e proprie classi. Detto questo, in conclusione possiamo dire che la pca ci consente di valutare come si comportano i dati tra di loro e identificare graficamente dei possibili cluster. Per un'analisi più approfondita, come vi dicevo poc'anzi, si potrebbe prevedere un'analisi dei cluster e successivamente proseguire con tecniche statistiche cosiddette supervisionate, cioè di classificazione, come ad esempio la linear discriminant analysis, LDA, per valutare ad esempio la modellazione di classe. Naturalmente se volete avere qualsiasi tipo di informazione in merito alla scienza dei dati, io vi lascio i miei indirizzi qui in descrizione. Ne approfitto inoltre per ricordarvi tutti i canali social dell'Associazione Archeometrica Italiana e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima!